Per il bucato a mano uso l'acqua calda o l'acqua fredda. Per il bucato pesante l'acqua calda, per quello delicato l'acqua fredda. Prima usavo due detersivi, poi ho provato bio2, sia a caldo che a freddo, e ha funzionato. In acqua calda bio2 è potente, toglie le macchie più resistenti già nell'ammollo. Visto? In acqua fredda bio2 è delicato, sui colori e sui sintetici. Bio2, potente in acqua calda, delicato in acqua fredda.